Dopo aver frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, negli anni 60 ha una breve esperienza come attore in radio, teatro e televisione interpretando piccoli ruoli. Ha prestato la voce a molti personaggi animati, sia del cinema che della televisione. È stato ad esempio Benny il Taxi in chi ha incastrato Roger Rabbi, Zatsune il Re Leone e nei seguiti Re Leone secondo il Regno di Simba e Re Leone 3 Hakuna, Matata, Roberto Sedigno, Roberto Ongo, Inolli e Benji, solo nelle prime tre serie. Conte Dracula in Carletto il Principe dei Mostri. Lupo de Lupis, nella terza edizione italiana. La seconda voce di Miss Piggy nel Muppe Show. La seconda voce di Bo Duke. Interpretato da John Schneider, nella serie televisiva Hazard, Neelix in Star Trek, Voyager, Taiso in Giant Robot, Yes Man in Silver Rocks, Nabescin in Excel Saga e La Morte nei Griffin. Ha prestato la voce anche a Lee Mayors nelle serie TV La Grande Vallata e L'Uomo da 6 milioni di dollari. A Terry Jones nel Monty Python's Fling Circus e al Caporale Reyes, nella versione colorata digitalmente della serie Zorro. Prodotta dalla Disney negli anni 50 e 60. Inoltre ha doppiato Fiocco di Neve nel secondo e terzo film di Stuart Little. Roberto del Giudice è noto soprattutto per essere stato la voce di Lupin terzo in tutti gli anime. dedicati al personaggio, eccezion fatta per il lungometraggio Il Castello di Cagliostro, per il quale ha rimediato nel 2007 partecipando al terzo doppiaggio del film, eseguito per conto della Mikado. Questo è probabilmente l'ultimo lavoro di Del Giudice su Lupin terzo insieme ai TV special del 2004. E del 2005 al quarto doppiaggio del film La Pietra della Saggezza. Ha diretto il doppiaggio delle edizioni italiane di film come Nikita di L.U.C. Besson. Allucinazione perversa di Adrian Line, il padre della sposa di Charles Scheer. Haunting presenze di Young Bond e prova incastrarmi di Sidney Lumet. Nonché di telefilm quali Beverly Hills, 90.210 e DR. House Medical Division, nel 2004 si è giudicato la terza edizione della targa Franco-Latini Le Voci di Cartonia. È morto la sera del 25 novembre 2007 dopo una lunga malattia.